Intanto perché siamo in un posto splendido che è il cortile della Biblioteca Gambalunga che in un qualche modo può essere definito anche la soglia, la biblioteca. Per una biblioteca come la nostra che aspira a essere una biblioteca aperta, una biblioteca che entra a far parte delle abitudini di vita dei nostri cittadini, dei riminesi, ma anche degli ospiti di coloro che sono di passaggio. La soglia, in particolar modo se pensiamo al nostro portone monumentale, può diventare una confine, qualcosa che rende difficile l'ingresso in una biblioteca. Mentre invece entrare in una biblioteca significa entrare in un luogo in cui poter fare esperienze meravigliose, viaggi straordinari, riuscire a vedere diversamente il mondo, le cose. Ecco, vedere. Gli antichi greci con questo verbo pensavano, facevano riferimento a quello che è una delle nostre sensazioni fisiche, uno dei cinque nostri sensi, ma in realtà esiste anche un altro verbo che è guardare che coinvolge il nostro spirito, le nostre emozioni, che attiva la nostra immaginazione. Ecco, in un qualche modo allora la mostra, le scopertine tipografiche di Stefano Tonti, art designer, può essere un esercizio allo sguardo, un esercizio alla visione, che può aiutare ad apprezzare la biblioteca, che può aiutare a varcare quella soglia, quella confine. Ma soprattutto il lavoro che Stefano Tonti ha fatto su queste scopertine tipografiche, cioè sui titoli dei libri. I titoli dei libri sono i nomi che vengono date alle opere, sono la loro identità, ciò che permette alle opere di viaggiare nel mondo, è un'operazione estremamente giocosa, che ci dice qualcosa di più della lettura, cioè che leggere è un gioco, che leggere è aprirsi all'immaginazione. E questo gioco che Stefano Tonti fa sulle lettere, sui caratteri, che Anna Maria Bernucci ha definito il lavoro coraggioso e addirittura quasi azzardato di un performer, tanto che a me queste copertine fanno pensare quasi a delle scene teatrali, rappresenta un vero e proprio binomio creativo, quello di cui aveva parlato Gianni Rodari, cioè muovendo le lettere, spostandone la posizione, si modificano i significati, ma soprattutto ci si discosta da quel binario della consuetudine che ci impedisce di vedere le cose. Quindi il lavoro, le scopertine tipografiche di Stefano Tonti, che in realtà hanno un titolo e hanno un titolo che si rifà a un libro importante del Novecento italiano, mi riferisco ad un romanzo di Pirandello, che ha molto lavorato sulle inquietudini, sull'io perturbante, uno nessuno centomila, è il titolo vero di questa mostra, che provoca degli spostamenti, degli spostamenti degli sguardi, degli spostamenti di significato. Ma ripeto, quello che mi pare è l'aspetto più interessante è proprio il gioco, è la relazione che si crea fra questi libri e libri che si possono scoprire in biblioteca. Insomma, diventa una sorta di diviatico per superare quella soglia che separa la biblioteca dalla vita delle persone che percorrono questa strada, che attraversano via Gamba Lunga, e quindi un invito a venire a vedere questa mostra e poi a entrare, a varcare la soglia della biblioteca Gamba Lunga, che diventerà un elemento connotante di questo luogo, nel quale abbiamo pensato come proprio un luogo per i lettori, tant'è che abbiamo messo delle poltronne in cui potersi sedere, chiacchierare, con il bel tempo metteremo le sedie, cioè un luogo dove stare, come se fosse un salotto, un punto d'incontro, una piazza dentro la biblioteca. E sopra di noi, sopra le nostre teste, queste copertine attraverso le quali attivare la nostra immaginazione, i nostri sogni. Poi ci saranno anche altre iniziative in questo cortile, durante le quali magari questi pannelli, queste scopertine temporaneamente si trasferiscono, ma poi per ritornarci. E quindi venite a vederla, venite a visitarla, venite alla Biblioteca Gamba Lunga.